non si poteva aspetta che qua c'è qualcosa che che mi prende doppio e sicuramente eccolo qua era l'audio del nostro sito internet allora signori ragazzi ragazzi non si poteva non partire dando un accenno della dell'importanza di questa canzone di questa di questa di questa splendida musica di un grande personaggio musicale con il quale oggi noi inauguriamo la nostro il nostro pomeriggio pomeriggio musicale oggi giovedì buonasera sabato 12 di dicembre sono molto emozionato si capisce dalle parole perché comunque sia non è mai così voi che siete abituati a sentirmi ma abbiamo abbiamo un big sono davvero contentissimo ringrazio chi mi ha dato l'opportunità di intervistare tra l'altro uno dei miei grandi miti della musica e quindi oggi sabato 12 di dicembre sono le 15 e 04 minuti primi inauguriamo la web tv che ho l'onore di di avere con me come inaugurazione davvero uno dei più grandi signori marco ferradini ciao marco buongiorno buongiorno eccolo là come stai marco mi senti ti sento un po ti sento un po a scatti eh ti dico la verità ti sento un po a scatti ti sento a scatti ma io sono ecco adesso benissimo io ti sento bene vedo che la camera fa un po a scatti eh sì si vede che magari la ricezione non è il massimo però vabbè dai eh adesso ti sento perfettamente bene poi l'inquadratura eh beh signori guardatelo è uguale 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 a prima ma cos'è cambiato per questo uomo cosa ha trovato dalle parti di milano eh questo uomo qua la fonte della giovinezza marco sei rimasto uguale ad allora ma come fai aiuto no ma non lo so cioè la musica forse vivo un po nel mio nel mio mondo musicale nelle mie ehm con le mie note con le mie ehm creazioni creatività chiamalo come vuoi cioè ehm poi io amo tantissimo camminare sono sportivo da un punto di vista mi piace muovermi ecco non sto mai fermo sono sempre in movimento eh vado nei boschi amo la bicicletta quindi eh non sono sedentario però eh però beh ma chiaramente mi nutro bene non mangio di fette cioè sto attento ti mantieni in forma diciamo Marco sì esatto senti un po' io vorrei vorrei e con te approfondire anche un po' un discorso eh prettamente tecnico musicale perché perché ho alla portata oggi eh di microfono uno che ha fatto uno che è una persona che è un artista che eh ha fatto della grande musica e che è una delle colonne portanti della musica italiana eh il tuo teorema e altri grandi successi hanno fatto un po' eh il giro diciamo in lungo in largo in lungo in largo per quel per quel che riguarda la musica italiana e nel mondo in Europa soprattutto nel mondo come ti sei scoperto artista qual è stato il tuo percorso musicale Marco e soprattutto quali sono le analogie che vedi da da allora ad oggi ma sai cioè dipende ognuno è calato nel nell'epoca che vivi no cioè che ti capita di vivere no e io sono stato calato in un'epoca molto fortunata perché gli anni sessanta e settanta e ottanta erano epoche completamente diverse da quella di adesso dove un giovane poteva che aveva un sogno poteva anche realizzarlo ecco ecco e c'era questa capacità di 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 trasgredire alle regole eh del del passato e creare qualcosa di nuovo diciamo che tutta la gioventù di quell'epoca ha avuto la possibilità di 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 vivere di se stessa di di qualcosa di nuovo di creare e cosa che adesso invece non non è più così è inutile fare è inutile e triste fare il raffronto perché i giovani adesso purtroppo non hanno hanno mille cose più di noi noi non avevamo niente in sostanza non avevamo non possedevamo nemmeno la chitarra voglio dire era dura era dura fare musica Marco era sono fatta prestare da un amico non c'era anche quello non avevo anche i soldi per comprarmi adesso hai tutto quanto però manca che cosa manca il motore manca la spiritualità la voglia di fare manca la voglia di perché questo mondo è un mondo che non ti dà possibilità di di fermarti di pensare è troppo caotico e va bene se tu fai un mestiere dinamico voglio dire se scavi una strada costruisci qualcosa di di fisico materiale ma se devi pensare non va tanto bene perché il pensare non è di quest'epoca e questa è l'epoca del 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 della spiritualità la voglio di correre senza 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 avere una meta ecco corriamo tutti quanti per io vedo che i giovani sono sono piccato spaventati dal loro futuro ecco mentre noi per noi futuro era qualcosa di positivo di di solare quando uno della mia generazione pensava il futuro pensava di realizzare qualcosa e che sarebbe stato meglio del presente essere giovane adesso significa a che fa avere a che fare con la disoccupazione avere a che fare con la frustrazione di aver studiato e magari sei un dottore magari hai tre quattro lauree e non puoi esprimere la tua capacità il tuo know how e queste sono tutte cose che influiscono e non mentre noi potevamo sognare avevamo il tempo e lo spazio per sognare e anche per fare arte per fare musica e i giovani adesso non hanno più questo tempo e poi c'è di mezzo anche la tecnologia del computer che ha che ha tolto molta magia a questo questo lavoro questo mestiere perché tu sai che basta schiacciare c'è delle computer ci sono già tutta una serie di basi preimpostate eccetera eccetera dove non fai nessuna fatica se non quella di 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 conoscere il computer ma non suoni più tu sei più tu che crei e il computer che ti già che ti già la pappa pronta praticamente no la mia generazione invece è una generazione che si è dovuta costruire tutto e e allora ti rendi conto che quando tu costruisci con le tue mani hai in mano il tuo mestiere hai costruito qualcosa e sai farlo sei cresciuto piano piano quando trovi tutto già pronto purtroppo per di perdi un po diciamo così la la voglia di volerlo fare poi la soddisfazione di dire l'ho fatto io questo è ecco tu mi parlavi però anche di una di una cosa secondo me è bellissima hai usato una parola spirituale alla spiritualità no cioè noi ecco io mi ricordo che quando ascoltavo la tua musica io lavoravo con mio papà il faticavo dalle dalle sei la mattina fino alle sei alla sera a milano e facevano un lavoro abbastanza noioso perché facevamo dischi abrasivi però io mi mettevo la mia radiolina di fianco alla macchinetta che io ero solito ad operare e mi passavo il pomeriggio la mattinata ascoltando della bella musica allora si ascoltava radio milano international c'era giù c'era marco ferradini c'erano i rockets c'erano tutte queste persone che negli anni 70 80 anzi più 80 che tutto il resto insomma hanno fatto hanno fatto della della grande musica e posso dire e posso dire che andavo a lavorare con con un po anche con gioia sebbene ti alzai quella mattina alle sei al limite le mie possibilità allora erano limite possibilità umane però c'è andavi e la prima cosa che facevi quando arrivavi in 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 ditta era accendere la macchinetta il caffè farti il caffè accenderla radio quando accendevi la radio c'era angelo di maria che faceva della gran bella musica italiana per cui marco ferradini per me era era un must passavate queste belle canzoni e posso dire che la speranza ce la davate voi cioè voi davate una speranza a chi ascoltava la vostra musica chi ascoltava le vostre parole io mi sedevo a far andare questa macchinetta però pensavo le vostre parole perché un po ti immedesimavi nella tua domenica con le parole di marco ferradini prendi una donna no e io mi immaginavo di prendere la mia donna perché in quel momento lì io aspettavo con bramosia la domenica pomeriggio perché vedevo la mia donna cioè mi creavate un'aspettativa una speranza tu con il tuo termine spirituale cosa hai voluto dire insieme insieme a queste parole che ho messo io sul tavolo qual è il tuo termine spirituale che hai voluto usare prima la spiritualità è quella una specie di profondità che tu hai dentro bravo ho capito bene allora una profondità è un eco che rimbalza cioè non siamo a una sola dimensione c'è questa dimensione molto più profonda e che ti permette di di vedere le cose in un modo più più ampio secondo me più meno limitato alla contingenza meno materiale quando quando ti faccio un esempio quando quando scrivi la canzone tu non lo sai però in quel momento sei talmente felice che ti senti volare quasi no e secondo me allora scopri che la musica ti avvicina al cielo ti porta su ti porta in alto e in quel momento senti una forte spiritualità e ti senti è come se tu comunicassi con dio però certo certo capito ci credo non ci creda questo è un altro paio di marche però in quel momento senti che c'è qualcuno che dovresti ringraziare grazie perché sono uscito a fare questa cosa ringrazi te stesso ma è come se ci fosse anche qualcuno a cui indirizzi quello che è uscito questa questa tua creatività questa creazione è bellissima è bellissima è bellissima cosa molto bella è una niente succede veramente purtroppo però quando succede è una sensazione che ti ripaga di tanto tempo passato a scrivere a cercare di dare un senso compiuto alla tua musica la tua il tuo testo e a quello che poi naturalmente sai che questa canzone questa e questa tua opera verrà divulgata e poi speri di incontrare tante persone che l'ascoltino per condividere con altri questa tua sensazione senti marco tu sei un grande personaggio ed è negabile che tu tu sia quindi hai fatto hai fatto le più grandi canzoni le più grandi melodie io credo insieme ad altre ad altre realtà musicali io ricordo alla domenica pomeriggio quando facevano allora i lenti no che noi aspettavamo tantissimo devo sorridere in questo momento e lo so perché perché era un momento unico della domenica il clou della giornata arrivano i lenti per cui puoi prendere la donna puoi trattarla bene trattarla male come dicevi te non lo so cioè alla fine era un po il senso della cosa io ricordo che c'era un ispandaù ballet con con through the barricades c'erano c'erano tante altre belle canzoni ma c'era questa teorema che era 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 bellissima era io ti confondevo spesso con alan sorrenti perché poi allora tu avevi i capelli lunghi e quindi eri e poi sei rimasto anche un bell'uomo lo eri anche allora però ecco avevate questa questa bella diciamo così somiglianza no questa vaga somiglianza a livello a livello cognitivo cioè io ti vedevo e dicevo ma questo ragazzo lo confondo con alan sorrenti però quando poi sentivi le parole di teorema la musica di teorema con la chitarra arpeggiata no no questo non è non è alan sorrenti questo è marco ferradini cazzo parliamo voglio dire da dove ti è venuta come ti vengono le parole come ti son venute le canzoni allora come ti venivano come vengono oggi trovi qualche similitudine in questo o c'erano dei momenti particolari che ti facevano scrivere diversamente da da oggi le canzoni vengono dal gioco perché la musica viene dal gioco ti siedi in primo porto prendi in mano la chitarra che un cesto in pellare giochi fin quando queste note che fai e non formano una melodia non ti spira non ti viene voglia di continuare cioè ci sono degli automatismi se vuoi no però nascono tutto dal gioco invece per quanto riguarda i testi i testi nascono dell'esperienza vissuta nascono da quello che tu hai da una storia d'amore oppure da una storia d'amicizia io ho scritto 11 o 12 album e in 12 album ci son dentro fai conto una decina o quindicina di canzoni quindi ci sono tante canzoni ognuna di queste canzoni diversa dall'altra molte sono canzoni che parlano di sentimenti di rapporti con le persone e altre sono canzoni che invece parlano anche c'è una che si chiama caravan ad esempio oppure strada di fuoco della competizione che ognuno di noi è costretto ad affrontare cioè ci sono tante canzoni che ho scritto che hanno vari argomenti sono conosciuto più che altro per aver scritto insieme ad erbe pagani tra l'altro voglio ricordarlo e alcune canzoni d'amore che che mi rappresentavano perché raccontavano la mia esperienza personale quindi io ho sempre scritto situazioni che ho vissuto chiamarle autobiografiche a chiamarle come vuoi però mi vengono facile ecco diciamo che mi viene più facile scrivere una cosa che vivo piuttosto che una cosa che non ho mai conosciuto certo 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 ma io considero mi considero sostanzialmente un artigiano ecco se c'è una parola che che mi può racchiudere racchiudere bene è artigiano cantautore artigiano mi piace questa idea bello bello anche come come diciamo così come immagine no che hai creato con questo termine perché poi alla fine è così cioè tu ti creavi la musica ti creavi le parole ma tu oggi vedi ancora marco ferradini come lo vedevi allora nelle serie specchia oggi questo tuo essere artista nella nelle parole di allora adesso vogliamo un pochettino verso verso la musica voglio voglio andare un po verso la musica attuale con con marco ferradini però ecco la domanda è proprio questa cioè voglio capire se tu ti rivedi ancora oggi nel 2020 nello stesso momento in cui tu vai a scrivere delle parole di una di una tua musica di una tua canzone prendi e hai ancora dentro di te questi valori o hai delle situazioni diverse che ti fanno scrivere in modo differente no noi penso di essere rimasto uguale con sicuramente più esperienza ma sai devi stare molto attento a che la vita ci consuma ci modifica ci schiaccia ci rimodella certo bisogna cercare di rimanere sempre bambini per fare questo mestiere devi essere sempre giocatore sognatore il pericolo e quando diventi una persona troppo razionale e allora non scrivi più e per il piacere di scrivere ma solamente per cercare di fare successo e tutti cerchiamo il successo per l'amore di dio ma nell'arte tutte le volte che cerchi successo a tutti i costi vengono fuori le cagate hai ragione ecco vedete ragazzi questa è anche la grandezza di un di un personaggio come marco ferradini che poi alla fin fine dici caspita io adesso devo andare a intervistare questo grande personaggio chissà com'è se dico questo se dico quello invece bello quando scopri che anche queste persone sono persone alla fin fine semplici con delle con delle con delle buone maniere con delle belle idee con delle belle parole e che ti fanno capire realmente quali sono i valori che poi hanno mosso certi sentimenti la loro musica che hanno toccato la tua di corda del sentimento quindi è bello scoprire che ci sono anche delle belle similitudini Marco una cosa sola e poi andiamo a ascoltare un tuo brano senti ma cosa ti è rimasto del passato a parte questo retro gusto sempre dolce che io credo possa venire almeno a tanti di noi che hanno apprezzato questo bel periodo che cosa ti rimane di questo passato glorioso di questa di questa cosa così diciamo bella celestiale tu hai la visione di un futuro che possa tornare a essere diciamo così così celeste o hai di fronte a te un'immagine che tu mi hai capito cosa voglio dire diciamo che tutto nasce da noi siamo esattamente quello come si dice siamo quello che mangiamo siamo quello che abbiamo respirato da giovane io sono rimasto sono un ex ippis e mi vanto ancora di esserlo nella formazione perché in quei valori mi ci rispecchio ancora erano valori di pace di libertà di tolleranza di non aggressività e erano delle cose belle che ho insegnato anche mia figlia ma anche se il mondo di adesso è un mondo completamente cambiato però di quei valori ce l'ho ancora dentro e mi servono perché mi alimentano mi sostengono e ci sto bene ti dirò penso di avere non dico di essere peggiore o migliore di altri però non mi sembra di essere peggio di altri vedo dei valori invece intorno a me che sono dei valori purtroppo molto tristi i valori dell'acquisizione dei soldi dell'avere la bella macchina dell'avere il potere su tutte cose mi lasciano un po' triste mi lasciano tristezza perché capisci quanto è povera la persona che cerca queste cose qua mentre prima parlavamo di spiritualità parlavamo di questa profondità che quando invece sei schiacciato da questi bisogni dal far vedere solamente l'esteriorità purtroppo questa profondità non ce l'hai e sei la persona triste purtroppo ecco non credo di essere triste io sono contento di me stesso e grazie a queste cose che ho acquisito a suo tempo per me è stato molto importante molto importante vivere in quegli anni 70 80 perché mi hanno formato ecco perché i giovani vanno formati questa può essere la scuola possono essere tante cose speranza la parola giusta è speranza perdi questa parola qui perdi il 50 per cento della tua vitalità bella bella questa tua questa tua disamina un pochettino diciamo attuale su quello che è diciamo l'essere l'essere spirituale però che speranza può avere secondo te una persona che oggi oggi come oggi ascolta della musica che inneggia alla violenza all'omicidio al suicidio al che ne so a tutte queste violenze no corporali e anche parla anche parliamo a livello spirituale perché sono violenze anche di spirito che speranza può trovare in questo messaggio una persona che oggi si tuffa in in un mondo musicale come con l'attuale ma allora io sono lontano con il mondo chiaramente però vivo nel mondo quindi percepisco queste cose trovo che siano un po' la moda moda nel senso che la musica che si fa adesso in italia un po' nel nostro mondo non sia di sostanza sia solo di moda allora trovi dei ragazzi che stanno bene che hanno il telefonino dell'ultima generazione la macchina dell'ultimo l'ultimo motillo stanno bene vivono bene eccetera 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 e fanno finta di essere dei rapper incazzati come se fossero neri di pelle e questo francamente mi viene da ridere perché il rap ad esempio è stato inventato in america è stato inventato da popolazioni che soffrono che soffrono che cosa la discriminazione razziale qui in italia non c'è la discriminazione razziale e c'è la discriminazione razziale perché tu nel rap esprime delle tue incazzature la tua arrabbiatura riportato questa cosa riportata qui paro paro in italia o nell'occidente ahimè fa ridere per certi versi perché non ci sono le condizioni di queste incazzature puoi essere arrabbiato contro vuol dire il fatto che l'economia non funziona però non sei disperato come un nero che ogni giorno si vede sputare in faccia il fatto di non essere bianco sì vero verissimo grande marco guarda io mi sono ritrovato ma alla misura più completa nella misura più completa in queste due parole grandissimo davvero io ricordo anche grandmaster mel and the man's the furious five che erano dei rapper americani nati nel bronx no ll cool j c'è gente che insomma leggere i testi erano gente che insomma erano rapper questi avevano degli articoli il 41 bis era 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 una cartolina data ormina a confronto cioè oggi oggi davvero vedere un rapper con il rolex al polso insomma fa un po fa un po ridere sono d'accordissimo con te senti come è moda è moda è sempre fare soldi fare successo e tutto è vuol dire tutte giustificate quindi in questo mondo basta avere successo si può dire che chi ha successo ha ragione ecco questo purtroppo se la summa del nostro del nostro vivere in questo momento senti marco andiamo ascoltare un brano che si intitola lombardia sì lombardia è una canzone dedicata alla mia terra che in questo momento è ahimè è stata martoriata ormai siamo quasi quasi un anno che siamo martoriati che ha visto questo virus infliggere delle punizioni tremende però la canzone è stata scritta molto prima è una canzone d'amore nei confronti della mia terra e dove descrivo la terra dove sono nato la terra che mi ha dato la possibilità di crescere di creare me stesso di realizzarmi e quindi una cartolina d'amore nei confronti della mia terra e ci sono delle immagini dentro di quando ero giovane di quando camminavo per milano l'odore delle caldarroste il naviglio la neve tutte immagini sentimentali e che invece di essere dedicata ad una donna e sono dedicati una città alla mia terra la mia lombardia beh alla fine marco la città è pur sempre una bella donna quando vai a dedicare una canzone è pur sempre una bella donna alla quale tutti ti riferisci no e confessi magari dei pensieri dei segreti delle cose che magari uno certamente signori ascoltiamocela io con marco marco ferradini non ci posso credere ancora che ascolto una canzone insieme a lui bellissimo non se me l'avessero detto qualche anno fa quando ancora lavoravo con mio padre che un giorno un domani avrei avuto una una bella una bella chiacchierata amabile con questo con mito della musica beh non so dove dove l'avrei mandato ma ve lo lascio immaginare però è successo e questo momento me lo godo fino in fondo lombardia marco ferradini su rcm 104 radio web buon ascolto ma finalmente un po di pioggia sta bagnando la città dopo una calda estate l'aria si rinfrescherà amo le atmosfere di malinconia che sa regalare questa terra mia non c'è niente da capire non c'è niente da spiegare se non ci sei nato non li puoi sentire certi stati d'animo che il salire lento della nebbia dai navi mi fa respirare come le ragazze di questa terra mia petali di rosa sotto cieli grigi e questa è lombardia se la mia città col sole non è certo un carnevale con le foglie dell'autunno il suo fascino fa male può sembrare triste ma mette allegria a questo mai fermarsi questa frenesia non c'è niente da capire non c'è niente da spiegare non c'è niente da spiegare se non ci sei nato non puoi ricordare il profumo delle caldarroste sotto i portici del nel centro con la neve che incantava il tempo e come le ragazze seguite per la via poco appariscenti ma che il sonno sa portarti via solo le ragazze di questa terra mia petali di rosa sotto cieli grigi e questa è lombardia petali di rosa sotto cieli grigi e questa è lombardia petali di rosa sotto cieli grigi e questa è lombardia petali di rosa sotto cieli grigi e questa è lombardia petali di rosa sotto cieli grigi e questa è lombardia petali di rosa coi rcm 104 radio web la radio del numeri 1 scusate chiaro no ci siamo davvero avete ascoltato queste parole io penso che ci siamo detti tutto marco ma quando l'hai scritta sta canzone quando si qualche anno fa qualche anno fa e non mi ricordo il momento in cui l'ho scritta però ho scritto così per questo bisogno di dedicare una canzone alla mia terra per dedicare per la cosa quando la consapevolezza che in fondo noi siamo esattamente quello che il luogo che ci ha prodotto che ci ha fatto nascere e sono andato qui e quindi ho respirato questo questo colore di verde quest'aria questa le mie montagne sono andato in provincia di como quindi ho tutta la serie di ricordi a cui sono legato i miei passeggiati nei boschi le mie biciclettate e gli amici tutta la serie bello che bello che quadro che quadro c'hai dipinto ma tu sei un pittore un no vabbè vabbè ma ascolta allora è impossibile non allora chi non ha vissuto non può ricordare hai detto una cosa una ne hai detto tanto in questa in questa in questa canzone che talvolta fai anche un po fatica andare 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 a prendere una per una però chi non chi non ha vissuto non può ricordare questo è un po come prendere un pennello in mano e cominciare a fare un quadro credo che non non ci sia migliore 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 tela migliore vernice del tuo ricordo che possa che possa fare rendere il quadro più bello più attraente più più immaginante per chi lo guarda per chi l'ha vissuto marco grazie grazie no ma vabbè ma ma tu c'è ma credi che questa sia piageria o è veramente vedi vedi delle delle cose delle cose reali quelle che ti dicono in questo in questo momento perché io non le vedo come piageria per me un è un reale ricordo il fatto che io correvo dietro alle ragazze per la via il fatto che io sotto i portici quando andavo a magenta c'era quello che faceva le caldarroste cioè ognuno ha vissuto nel suo momento però il quadro che tu hai dipinto con questo con questo pennello è un quadro in cui chi davvero non ha vissuto quei momenti non potrà mai ricordare e difatti ho come dicevo prima io descrivo situazioni che ho vissuto e poi le metto niente carta e penna complimenti scrivere questi testi e poi diventano musica e dopo diventano la canzone niente proprio appunto giustamente devi vivere queste sensazioni devi essere aperta queste a queste sensibilità perché se sei chiuso e non vedi niente non puoi farlo ecco ti vengono queste marco dove troviamo dove troviamo questo tuo nuovo album quando soprattutto dove è distribuito perché io a questo punto voglio farmi un bel regalo di natale questa questa è la copertina di un fan che mi ha mandato ecco mi ha mandato una agenda del 2020 mettila un po più sul mezzo per favore un po più in mezzo alla telecamera eccolo 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 lì l'uva e il vino questo è il mio ultimo lavoro contiene 13 brani inediti quattro di questi brani sono duetti insieme a mia figlia marta e che che mi affianchi in questo lavoro e che spero esca con il suo prossimo lavoro complessivo si niente sono sono è un disco che non strizza l'occhio a nessuno nel senso che non è un disco commerciale inteso cercando di vendere ecco non ho queste è un disco fatto con sentimento con naturalità e con molta passione ecco questo sicuramente e quindi è un mio il mio la mia carta d'identità del momento mi descrive in questo momento in questo periodo quindi l'uva il vino è il tuo nuovo lavoro il tuo nuovo lp giusto dove lo troviamo naturalmente penso tutte le piattaforme si trova da tutti i posti nei vari negozi se ci sono ancora dei negozi più che altro su spotify si può ascoltare su youtube ci sono alcuni video c'è il video ad esempio di lombardia quella che abbiamo ascoltato adesso c'è il video di l'uva il vino che il brano che adesso andremo ascoltare ora poi c'è il video anche delle parole ci sono i vari video che che testimoniano questo lavoro allora senti facciamo così andiamo subito ascoltare l'uva il vino così almeno facciamo sentire anche questa canzone poi parliamo di un marco ferradini invece attuale no insieme anche queste due canzoni è sicuramente un marco ferradini attuale però oggi abbiamo ascoltato le due canzoni dove tu sei diciamo così singolarmente l'artista di riferimento poi ci sono due canzoni in cui tu sei un po' in veste dell'insegnante perché se sei in rapportato a tua figlia in queste due canzoni sei un po' tra virgolette il papà che prende per mano la la creatura no la porta nei meandri della musica marco tu sorridi a questa mia affermazione perché perché lei veramente immaginata così ma sì c'è dentro ci sono no no più che altro se la canzone che ho scritto e poi mi piace giocare vedere sperimentare quindi ho provato con mio figlio ha detto vediamo come viene questa canzone cantata in due e da cosa nasce cosa lei ha una voce molto calda molto una bellissima voce e canta anche molto bene e quindi il risultato per me è il top nel senso che la mia voce e la sua voce stranamente si sposano benissimo stranamente dai stranamente te la sei modellata la voce dai va là Marco senti andiamo a ascoltarci dai l'uva e il vino perché sono curioso sono curioso andiamo a farci questo questo bel sorso di lombardia insieme a Marco Ferradini con l'uva un sorso d'acqua invece prego ci mancherebbe altro per lei questo e altro intanto noi ci ascoltiamo l'uva e il vino signore e signori su rcm 104 l'onore e il piacere in grande e immenso di avere Marco Ferradini che è artista questo è il suo ultimo capolavoro buon ascolto mi dicevi sempre l'uomo che vorrei per me non potrà mai essere egocentrico e insensibile mi dovrà capire poi dovrà esserci fra noi un'intesa fatta di tenerezza e complicità mi abbia negli occhi un'idea di futuro e non voglia farmi mai da padrone non giochi a fare il duro che non si volti a guardare nessuno essere il sole e luna io sentivo d'essere l'uomo giusto adatto a te dedicavo tutte le mie serate ad ascoltare te ti portavo sempre in giro ti facevo divertire ti aiutavo ad essere più sicura e meno fragile così una sera ti ho aperto il mio cuore e tu non sapevi più cosa dire mi devi di stupore sei tanto caro sei un uomo speciale ma non ti potrei mai amare finalmente so chi sei e che cosa sono io un ingenuo che non sa leggere quel che le parole nascondono ma dall'uomo che amerai tenerezza e non ne avrai sarà proprio un tipo impossibile quello che un giorno sceglierai uno che ti lascia sola la sera a cui scriverai mille lettere disposte niente ancora così lontana dai sogni che fai un giorno ti ritroverai ognuno corre in bocca al destino come un gravolo di un basso col sole un giorno sarà di no ogni stagione i suoi frutti città chissà se mi troverai qua 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 e insomma ragazzi dai l'atmosfera c'è 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 e che bella atmosfera c'è questo pomeriggio su rcm 104 radio web arriva proprio nel momento giusto il natale il natale insomma era la canzone era la canzone la bella canzone quella che ti toccava il sentimento quella che ti cambiava l'umore l'umore della giornata magari ti lasceva questa giornata col piede sinistro e con una bella canzone magari come quella che oggi abbiamo ascoltato l'uva e il vino no? con una bella canzone come quella che abbiamo anche in questo momento sotto fondo insomma ti cambiava un pochettino la destinazione di questa giornata Marco complimenti che ti devo dire ormai cioè farti i complimenti per te comunque penso sia una cosa una cosa normalissima quali sono le più belle soddisfazioni che hai avuto dopo la presentazione di questo LP? il commento appunto i complimenti mi fanno sempre piacere sono sempre benvenuti sotto forma di una stretta di mano oppure uno che ti offre un caffè oppure chi scrive o chi ti acquista l'album sono sempre benvenuti e viviamo anche di complimenti perché se non ci fossero i complimenti probabilmente non avremmo neanche la voglia di star lì a sprenerci le meningi insomma a cercare di musica e quindi sono sempre benvenuti quest'ultima canzone ad esempio che abbiamo ascoltato L'Ugo e il Vino che dà il titolo all'album è una canzone che parla è una seconda teorema se vogliamo perché la protagonista è una ragazza che si va un po' a mettere nei guai come molto spesso succede alle nostre care amiche donne vogliono spesso la luna e magari per fare il salto sulla luna cadono ecco si sporgono troppo ecco è un eufemismo per dire che magari trovano un ragazzo che le vuole bene che le ama che le copre di tenerezze di di doni di attenzioni e poi magari loro di quello non se ne accorgono e si vanno innamorare sempre dell'uomo impossibile l'uomo da redimere l'uomo da da plastificare da modificare secondo le loro reali intenzioni e qualche volta ci rimangono male perché quegli uomini lì molto spesso sono i famosi uomini impossibili quelli che poi diventano qualche volta anche violenti eh sì vero vero senti ti vedevo in mano uno strumento musicale ma è un sei corde o un dodici corde questo è un mandolino un mandolino però in formato moderno eh sì il mandolino è molto moderno e siccome in questi giorni sto realizzando dei provini natalizi anzi non natalizi casalinghi e sto ho un progetto nuovo e voglio realizzare tutte le mie canzoni d'amore le 15 una trentina di canzoni d'amore tutte in chiave acustica tutte suonate con pianoforte anzi pagò solamente chitarra chitarra classica chitarra a sei corde di nylon scusa di metallo mandolino basso acustico e 12 corde e lo sto facendo sto facendo questo progetto sto facendo divertendomi a fare questi provini e poi prima o poi lo farò uscire come album di interpretazioni acustiche che a me piace molto e molto piace molto il mondo acustico perché sono nato con quelle sonorità e la mia voce penso si sposi molto bene con queste sonorità caspita ragazzi si si sposa bene con quella sonorità lì assolutamente sono d'accordo senti Marco prima che andiamo a ascoltare il primo brano con la voce anche di tua figlia insieme a te io volevo che in due parole mi illustravi un po' la tua idea che hai sui social scusami sui talent show perché in questo momento tu introduci una canzone dove tu hai diciamo così tra virgolette tralacciando quella che è la forma familiare della figlia hai con te un allievo in cui tu gli stai dando un diciamo così un insegnamento lo vuoi portare attraverso questa a percorrere questa strada attraverso un po' la tua esperienza stai trasportando il tuo carico di esperienza lo stai trasportando da questo contenitore a quest'altro come vedi questi talent show perché non hanno secondo te chiesto ad un'eminenza della musica non dico te perché io so che tu sei anche un uomo molto molto umile nel senso che non sei un montato insomma parliamoci chiaro ma perché non hanno preso magari una persona che avesse la tua esperienza per poter insegnare a dei giovani che cosa è realmente la musica non me lo sono neanche chiesto non sono un personaggio televisivo non sono presente non faccio faville sono come ripeto prima vivo nel mio mondo e cioè però non ho quella pill diciamo non sono un personaggio strano alla Morgan ecco che è partito sempre con nuovi abiti e fa già numero solamente visivamente insomma va bene ci mancherebbe altro è un carissimo artista un grande artista per modo di dire però non è quella pill televisiva però si parla di esperienza musicale tu ne hai da vendere secondo me hai dei carichi di esperienza che sono molto più importanti di quelli che oggi diciamo si sono po' sono stati messi lì ad insegnare ad un giovane che cos'è l'arte della musica sì fra l'altro insegno da parecchi anni ho alcune scuole dove insegno e faccio musica d'insieme mi diverto a creare questi insiemi musicali di persone completamente diverse e che ognuno si esprime tramite la musica tramite uno strumento è bellissimo una cosa perché vedi nascere come un orto con un giardino dove metti dei semi e poi dopo qualche mese vedi che nascono esatto quelle belle nuove canzoni ma questo capisci il mio atteggiamento è un atteggiamento forse un po' diverso da quello di questo tipo di programmi in quei programmi lì quei programmi sono fatti per spiegare alla gente come si fa un artista come si crea un artista e come ci sono appunto quei programmi su focus come si fa una lavatrice come si costruisce una bicicletta come si costruisce un televisore ti farò vedere come si costruisce e quindi facevano sono nati per far vedere come si costruisce un artista poi ci metti in mezzo la gara e purtroppo succede che poi la televisione ti prende la mano anche la televisione ha i suoi tempi ti dà ma ti togli molto quindi ti divora ti ingloba e alla fine vieni preso dentro e quello che conta non è chi sei ma solamente come appari e allora ti buttano allo sbaraglio a cantare la tua canzone non sai neanche chi sei ti costruiscono praticamente ti mettono addosso un vestito ti mettono addosso una scenografia ti mettono dietro la scenografia ti dicono come muovere le maniche che sguardo avere come guardare la telecamera ti dicono tutto però quello che manca poi sono le canzoni perché sono tutte canzoni già fatte e quello che manca è l'artista perché un artista non si costruisce mandandolo semplicemente in televisione ma si costruisce dopo tanti anni di gavetta di lavoro di saper suonare saper interpretare e conoscere un po' di vita e purtroppo questi programmi ecco hanno il loro il loro limite è questo che dico purtroppo perché quello che è una prova una dimostrazione di come si fa un artista diventa poi l'arte in sé e questo è il limite della cosa Marco senti andiamo a ascoltare Buona Stella dai Buona Stella molto volentieri la canzone natalizia è la canzone che abbiamo scritto che ho scritto dedicata a questi giorni natalizi ed è una canzone che è nata sai perché? perché un giorno salgo dal metro di Milano e vengo un disperato lì una persona un clochard che adesso si chiamano così a Milano si chiamano Barboom sì è vero però ecco e vedo questo un povero uomo con una scritta e mi dice aiutatemi la fortuna non mi è stata amica e mi sono rimasto impressionato da questa parola perché ho pensato che in effetti viviamo tutti con una stella che può essere accesa o spenta se sei fortunato questa stella è accesa e ti aiuta per tutta la vita se purtroppo non lo sei questa stella si può spegnere e ridurti come questo povero uomo e quindi ho pensato che in questo momento Natale è bellissimo mediamente bello a parte quest'anno con il covid ma ho pensato che ci sono anche persone che quando arriva Natale si sentono ancora più tristi e forse anche più sole quindi la canzone si chiama Buona Stella è un augurio per tutti è una canzone molto positiva è un augurio ripeto ma è anche uno sguardo verso chi è meno fortunato che dire eh sì eh sì RCM 104 Radio Web eh signori numero uno questa è questa è la grandezza di un personaggio come quello che è appunto Marco Ferradini sono contentissimo di averlo conosciuto eh prima come artista aver sognato sulle sue canzoni e avere avere anche un po' percorso no eh fatto fatto mio anche le le parole di un artista qual era qual era appunto quali erano appunto le parole delle delle sue canzoni e poi ascoltare che queste idee sono ancora quelle di oggi presenti nell'animo eh presenti e nobili quanto quanto lo sono state le parole che ha usato oggi Marco per descrivere questa canzone ragazzi io ve la dedico perché se le parole sono queste io mi aspetto un capolavoro ma di quelli enormi e io ve la voglio dedicare buona stella eh buona stella e buon ascolto naturalmente su rcm 104 grande Marco buon Natale a te happy christmas time a te en joyeux noel tanti auguri a te che il tuo sorriso per me sempre acceso sia perché ogni volta che arriva Natale come d'incanto ritorni bambina e alle piccole cose una luce saltare e rimango stupido a guardare cosa sai inventare tanti auguri a te come va my friend che la buona stella sia sempre accanto a te dimmi se sei anche tu come me un po' deluso da questa realtà e non sai più se ridere o piangere alzare lo sguardo e cercare più in là qualche cambiamento e tanti auguri a chi la fortuna non è stata amica e in questi giorni si sente ancora più solo nessuna casa lo attende nessuna donna lo pensa nessun regalo si aspetta e anzi non vede l'ora che questi giorni finiscano in fretta non vede l'ora non vede l'ora che la buona stella sia sempre accanto stella nel singolo ci siamo sparacchiati quando sono le 16.09 minuti su rcm 104 radio web in presentazione di questo di questo lp un lp l'uva e il vino che potete trovare naturalmente su tutte le vostre piattaforme musicali virtuali dove voi vi rivolgete per l'acquisto di questi di questi di questi di questi lp insomma fatevi un bel regalo perché la musica di Marco Ferradini e Marta Ferradini sono veramente il classico marchio doc di qualità che si viene a sovrapporre su ogni prodotto che si ritenga di una certa validità e qua di validità ce n'è tantissima complimentoni Marco complimentoni anche a tua figlia Marta perché è una gran bella voce grazie 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 glieli riferirò con il suo dirlo glieli riferirai sicuramente ci mancherebbe davvero guarda io voglio farmi un regalo io voglio farmi arrivare il tuo lp e poi verrò un giorno di questi a fartelo firmare perché vorrei davvero avere il piacere di fare una foto insieme ad uno dei miei miti quale appunto sei e farmi firmare la copia dell'lp ecco comunque farerò anche un pennarello bianco perché la copertina è nera e quindi avrò modo di farlo risaltare ti aspetto ti aspetto mi premunirò di avere anche un pennello con la vernice bianca siamo sicuri che non verrà mai via senti Marco in ultimis che messaggio vogliamo lasciare perché abbiamo ancora un brano e vorrei che ci lasciassimo con con le parole no? le parole di un artista quale quale sei? le parole le parole è una canzone che ho scritto dedicandola a quando tu ti innamori e cerchi con le parole di descrivere questo sentimento che è praticamente impossibile perché quelle sensazioni che tu vivi dentro sono difficili da tradurre in parole ecco questo è il significato della canzone le parole invece per dare una parola per magari aiutare i giovani ad avvicinarsi alla musica e che io vorrei che la musica fosse come lo stato per me un modo anche di riscatto io parlo di quei di quei giovani che un po' disagiati che magari non sono benestanti che hanno che oltre il fatto che voglio dire non hanno un grasso futuro un vero futuro davanti a loro possono tramite la musica invece averlo ecco perché mi auguro che la musica torni ancora ad affascinare le generazioni per dare anche lavoro ai giovani per dare una speranza ai giovani e per fare questo bisogna che che i giovani imparino una cosa che ognuno di noi è diverso ognuno di noi ha dentro un mondo da proiettare da raccontare che è diverso da quella dell'altro la cosa che trovo sbagliata adesso è che tutti i giovani cantano la stessa canzone imitano addirittura certi difetti di vocale diventano un po' ridicoli no devono invece cercare dentro di loro l'ispirazione alla loro diversità e non avere paura di esprimere questa diversità perché nel campo dell'arte vince solamente chi che esprime se stesso chi esprime qualcosa di nuovo di diverso invece adesso sento che c'è grande appiattimento e tutti cercano di fare la stessa cosa come se avessimo tutti paura di sbagliare è la paura di sbagliare che fa sbagliare ancora di più posso dire una cosa vince chi ha paura scusami vince chi ha davvero qualcosa da dire sei d'accordo? certamente ma solamente se tu hai il coraggio di guardare e di dentro di te capire cosa vuoi e cosa vuoi dire questo puoi essere conscio di avere qualcosa da dire se non ti guardi dentro se imiti gli altri sei un'imitazione ecco d'accordissimo voglio dire che i grandi cantotori del passato negli anni 70 80 60 erano tutti personaggi guarda Lucio Dalla Lucio Dalla era un personaggio unico è un personaggio che descriveva il suo mondo è diventato il suo mondo cioè non è andato a copiare qualcos'altro ha cercato dentro di sé quindi prima di tutto si guarda dentro di sé e dire che musica voglio fare che cosa voglio raccontare dopodiché se tu guardi dentro di te secondo me scopri che sei diverso dagli altri benissimo nell'unità siamo tutti uguali però ognuno ha qualcosa di diverso da dire bene di le cose diverse non fare esattamente quello che fanno gli altri perché l'hanno già fatto guarda sei davvero unico nel dire queste cose comunque sono parole che non penso ci sia bisogno di sottolineare perché già dicono tantissimo di per se stesse poi hanno bisogno anche della sottolineatura non credo come rinforzo perché se uno ha un po' di minimo di cognizione intellettiva questo messaggio che è arrivato è un messaggio fortissimo un messaggio chiaro limpido fortissimo e chiarissimo ecco questo questo è questo è il messaggio di Marco Ferradini il messaggio che appunto arriva alle 16.07 minuti primi quando noi ci andiamo praticamente ad ascoltare questo 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 bel disco questo bel singolo le parole Marco cosa facciamo ci salutiamo adesso ci salutiamo dopo salutiamo adesso perché ho qualcosa da fare adesso dovrei scappare quindi ti dico che mi ha fatto molto piacere chiacchierare con te e far ascoltare questi brani e aver detto delle cose che si spera si spera in qualche modo possano aiutare chi si approccia o chi vuole continuare chi ama la musica perché dobbiamo sempre tenerla alta e in modo particolare l'ultima cosa che voglio dire aiutiamo la musica italiana aiutiamo la musica italiana bravo noi viviamo in Italia non viviamo in America neanche in Inghilterra neanche in Francia gli americani scrivono le canzoni per loro gli inglesi per loro i francesi per loro poi se hanno fortuna esportano la loro musica in tutto il mondo noi dobbiamo credere di più nella nostra cultura nella nostra capacità di fare musica facendo qualcosa appunto di diverso in italiano che non significa fare il caruso ecco ma significa fare quelle cose senza scopiazzare l'esterno potremmo avere anche delle chance di riuscire a vendere anche noi i dischi all'estero con la nostra musica il caruso o il teorema senti Marco guarda ti dico una cosa noi il sabato pomeriggio siamo usuali a lasciare lo spazio dalle 15 alle 17 all'artista emergente perché io credo che dare spazio a questi artisti musica di un certo tipo sia un po' come dare la vera reale possibilità tangibile concreta possibilità all'artista di emergere parlare di loro parlare a 360 gradi di loro come si formano quali sono le esperienze perché questa canzone è piuttosto che un'altra perché questo nome insomma farli parlare noi dalle 15 alle 17 facciamo parlare all'artista emergente e io al mio amico Danny Donato gli dissi guarda collaboriamo in questo senso tu mi mandi gli artisti emergenti e io li passo per radio va bene mi fa Gian non c'è problema ti mando Marco Ferradini alla faccia dell'emergente questo è un emerso ma è un emerso è emerso è emerso come palmer va bene grazie Marco grazie ti saluto grazie a te è stato un onore un onore immenso grandissimo buone feste buone feste buone feste a te famiglia ma spero che magari qualche altra volta potrò avere ancora l'onore di fare una bella chiacchierata insieme a voi Marco grazie mi raccomando l'uva e il vino ragazzi andatevele a andatevele a cercare su le piattaforme digitali del web acquistate fatevi un bel regalo di Natale Marco Ferradini la sua arte è lì che aspetta soltanto voi regalatevi davvero un bel messaggio quale è stato appunto quello di Marco quest'oggi grazie Marco un grande abbraccio a te e alla famiglia grazie altrettanto ciao a tutti e noi ci ascoltiamo le parole da questo magnifico lavoro capolavoro di Marco Ferradini l'uva ed il vino buon ascolto Mentre cammino sulla strada dell'amore un cimitero di parole abbandonate lungo i bordi senza vita alberi che non hanno il sole i loro credersi importanti i loro sforzi da giganti descrivono a fatica il cuore incandescente degli amanti che appena fanno le parole quando pretendono di fare di fare gara con le parti intense e uniche emozioni che l'amore ci sa dare con quell'innata presunzione che hanno sempre le parole di volere prevare gonfiarsi fino a farsi male e nel ridicolo cadere come si fa a descrivere con le parole il dolce intreccio degli sguardi perché soltanto nel silenzio si comprende quanto è profondo il mio sentirti guardarti e non dire niente il desiderio che si accende ancora prima di toccarti il tuo sapore mi sorprende che pena fanno le parole quando pretendono di fare di fare a gara con le forti intense e uniche emozioni che l'amore ci sa dare con quell'innata presunzione che hanno sempre le parole di volere prevalere gonfiarsi fino a farsi male e nel ridicolo cadere abbandoniamo le parole perché non sanno più parlare e riprendiamoci gli sguardi quegli incantevoli sospiri che così bene tu sai fare con quell'innata presunzione che hanno sempre le parole di volere prevare gonfiarsi fino a farsi male e nel ridicolo cadere che pena fanno le parole quando pretendono di dare le spiegazioni che nessuno al mondo ci potrà mai dare tradurre in lettere l'amore tradurre in lettere l'amore dove si arrendono i sospiri che tutte niente vogliono dire ma si lasciano intuire a resentire l'evidenza che di tutte le parole a meno a meno non si può fare e mettere un sospiro guardarti mentre dormi lasciarmi innamorare lasciarmi innamorare lasciarmi innamorare innamorare molto bene allora ragazzi io concludo qui l'intervista con Marco Ferradini e vi do appuntamento naturalmente sul canale di Facebook sulla nostra pagina ufficiale di RCM 104 noi abbiamo voluto passare Marco Ferradini in TV più che altro per avere proprio la diciamo l'occasione unica rara di avere un artista del suo calibro e non dargli il posto migliore per poterlo naturalmente omaggiare credo che con questo abbiamo inaugurato davvero la nostra tv web sulla quale vi aspettiamo per i migliori appuntamenti musicali vi do appuntamento alle 16.30 su RCM 104 radio web con il gruppo di Massimiliano Lambertini e di Alka Record Labour ora esiste distribuzione adesso andrò a vedere noi ci vediamo di là e vi aspetto ok alla prossima qui sulla web tv ci vediamo dall'altra parte ciao